Ma io non credo al toto conclave, non credo che la Chiesa oggi o la curia sia tutto il male che si dice, conosco la storia della Chiesa, so nel passato i problemi, conosco i problemi di oggi, io credo che il cristianesimo e la Chiesa cattolica presentino degli uomini e delle donne veramente eroici. Mi dicevo una volta alla moglie del presidente francese Mitterrand, una laica anticlericale, ma perché dove vado io negli angoli più infernali del mondo trovo una suora o un cattolico? C'è qualcosa in loro, c'è qualcosa. Io credo che la Chiesa ha una grande forza e esprimerà un Papa di livello e di altezza.